Creare un polo sportivo dedicato interamente ai giovani. Il nuovo progetto condiviso tra la polisportiva Vigliano e Pallacanestro Biella, delineato nella serata di lunedì nei locali della palestra comunale di Vigliano. Presenti i principali attori delle due realtà sportive, che hanno descritto gli aspetti principali dell'iniziativa, che rilancia la collaborazione con Biella Next, la società satellite che gestisce l'attività giovanile e che ha portato lo scorso novembre alla nascita della Pallacanestro Vigliano. Si è rivelata un'ottima idea, sottolinea il responsabile del settore basket Francesco Bianchini. La squadra si è fatta onore, ora vogliamo alzare l'asticella. Riuscire a portare a Vigliano le squadre giovanili dell'attività regionale, facendo di quest'area la sede principale di tutto il movimento. Siamo felici di aver trovato un terreno fertile a Vigliano e grande disponibilità tra tutti i soggetti coinvolti. Sulla stessa linea d'onda anche il presidente di Biella Next, Pier Giorgio Castelli. Si vuole dare un'offerta a circa 150 ragazzi, partendo dal mini basket, passando per le diverse categorie, fino alla squadra senior. In questo modo Vigliano diventerebbe la base operativa principale, dove disputare il maggior numero di incontri e attività. La polisportiva ha dato piena disponibilità, tanto più che il prossimo anno si affronteranno i diversi campionati regionali con i brand di Biella Next e della polisportiva. Sullo ruolo di quest'ultima ha voluto fare chiarezza il presidente Paolo Daniele. Gestire e ampliare il movimento del basket attraverso le nostre strutture è l'obiettivo principale. Fare di Vigliano il punto nevralgico dei giovani atleti di domani. Siamo orgogliosi della collaborazione con Palla Canestro Biella e a disposizione per ampliare il più possibile questo proposito sul territorio, che sono sicuro prenderà piede. Nasce una grande realtà stimolante, capace di guardare con programmazione all'oggi e al domani. E sul Circo L'Aurora, ora ribattezzato Clebaus, Daniele ha aggiunto. A breve verrà riaperto, sarà gestito da giovani e diventerà la residenza dello sport. Parole di assenso sono giunte anche dal presidente Antonio Trada di Palla Canestro Biella. Credo che questa iniziativa aumenterà la cooperazione tra i vari soggetti a vantaggio dei settori giovanili. Inoltre può riqualificare in maniera importante questo territorio.